Salve a tutti, benvenuti a una nuova puntata di questa serie chiamata Calcio, Kebab e Fantasia Per iniziale ringrazio i commenti che sono arrivati alle scorse puntate dai soliti Lorenzo Congiu e Luciano Castorina Lorenzo Congiu, entrambi vi consiglio un giocatore Vabbè, Luciano fa notare i cambi un po' in stile Falco Non posso che ispirarmi a un maestro Detto questo, entrambi vi consiglio un giocatore Mi dispiace su Zuma, mi sono accorto solo adesso che Luciano Castorina mi aveva consigliato Zuma Mi dispiace, mi sono accorto solo adesso di Luciano Castorina mi aveva consigliato Zuma Ora, trasferimenti, cerchiamo giocatore, cerchiamo Allora, cerchiamo Zuma, Zuma forse l'ha visto in partita Vabbè, cerchiamo, nome giocatore, cerchiamo Zuu Dumisani Zuma Ah, vabbè, che ignorantissimo questo tra l'altro Fammi vedere Eeeh, se però valo 2.500.000 Facciamo una cosa La mettiamo a lista preferiti Insomma, comunque non Vediamo, vediamo Vediamo, comunque Mentre il buon Lorenzo Congiu mi aveva consigliato Mi aveva già consigliato la scorsa puntata Però io, a me è sfuggito E questo chiedo scusa Aveva consigliato Tuba To U Dovrebbe essere terziotistro Hamed Tuba Del Bruges Attenzione Ah beh, però è belga Hamed Tuba, è belga? Ok, allora Eeeh, vediamo un po' questo come Allora Vabbè, se fallo seguire Eeeh Dista I preferiti E facciamo seguire Vediamo un po' Hamed Tuba Vediamo Vediamo, vediamo Intanto non è Ok Fatto questo Possiamo passare alla Alla prossima partita Eeeh Con Allora Vediamo un po' QTR è un po' stanco Vabbè, l'abbiamo fatto già giocare abbastanza Quindi direi che può riprendere Il suo posto Dov'è Dov'è il mio difensore titolare? Ecco Giafuna al Bishi Può riprendere Il suo posto Eeeh Ok Gli atti sembrano tutti abbastanza in forma Tranne 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 il Boven Il Boven, allora Dobbiamo far girare un po' I giocatori Non abbiamo nulla di che Allora Io Chi ci metterei? C'è Milanov Poi Poi Al Suvatter E' il giocatore che mi serve Da mettere Dopo Diciamo Durante la partita Ecco Quindi direi Milanov Facciamo Milanov Al Sharid Io non so Perché ce l'ho ancora Missi Insomma Serverebbero Dei buoni Mi servirebbero Dei buoni Backup Per quanto riguarda Il centro campo Comunque Ora Anche Allora Facciamo una cosa E l'indie Per ora Per ora Lo teniamo in campo E l'indie Mi serve Anche Davis Boh Per ora Andiamo così Per questa partita Andiamo così E andiamo avanti Con la prossima Partita Ecco In casa Con L'Albatin Albatin Che credo Abbia I nostri Stessi punti Se non tipo Uno in più Va beh Che la classifica Abbiamo visto La scorsa puntata E' abbastanza Corta Quindi per ora Vabbè L'inizio La classifica Ora come ora Dice davvero poco Comunque Avanti Ok Oh Alta V Nontro Albatin Giochiamo in casa Cerchiamo di vincere Ci serve Ci serve una vittoria Eh Gia Diabate Cacchio Allora Allora Attenzione però No Porchettine Quella Così Si sono presentati In questa maniera Va bene Ok Calcio d'angolo Quindi Vanno a primo palo E farei Facciamo Così Vai Billi C'era Quasi No Vai Olè Bene Billi 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 Un po' Defilato Billi Scarica indietro E l'indica Tua faccia Ok Ha il Canada Ha il Canada Hai il Canada Ti dalla indietro Crossala Bella No vabbè Ma poi che ci faceva Fatti di là Che c'entra Fatti Vabbè I giocatori Oggi C'hanno un po' Sono ognuno Per i fatti propri Però vabbè Eh ok Che volete Che vi dica Bravo Lindi Davis Appoggiala Bravissimo Sandro Emanoel Vai Ha il Canada Bello Ha il Canada Il cross Davy Niente Vabbè Dai Fa niente Fa niente E lindi Ha il Canada Dai Bello Bello Sto cross Davy Si è spesso Fatti Tu Billi Billi Niente Bravo E lindi Ok Minanov E lindi Davy Alfonso 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 Passa là dietro Vabbè Lo stesso Minanov Cross Angolo Ok Stiamo pressando Dai Stiamo pressando Abbastanza Ok Ma sta Allora Vai Billi Angolo Dai Fa niente Fa niente Sempre Sempre primo palo Ti vediamo così Cross Uh Attenzione Nindi Sandro No Ok Alfonso Alfonso Dai Cross Sandro Sono Non ci credo Non è vero Dai Ma Ma Quanta Quanta Sfiga C'è Ah Fatti Fatti Bella Ma no Su Cross Fatti Milanov Prova Niente Vai Fatti Eh Fatti Che cagli Bambini Billi 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 Proprio Lo sento Lo Sto Nasando Lo Sto La Beffa Proprio La Sto Nasando Qua Serio Timore Di Beffa Vai Alfonso Dai Mandalo fuori Tempo Vai Milano 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 Guarda Banda Vuoto E poi In mezzo Ma E Milano La Piazza Milano Bello Proprio Piatone Preciso Preciso Pulito Pulito 1 A 0 Amolì Dai La puoi Mettere Giusto Ok Mi sa che L'avevo Mettere Anche Prima Comunque Dai Oh No No Però non Facciamo Facciamo Scionzate Non Facciamo Inghiate Non Facciamo Cavolate Si Vabbè Bello Bello Il suo tiro Bello Il suo tiro Bello Rivediamo Rivediamolo Rivediamolo Bello 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 Ma Diabate Quel Diabate Che era Tipo La Lazio Una cosa del genere Cioè O Comunque Giocavo In una squadra Italiana Non so Se è Quello È Un serissimo Problema Ah Ah No 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 Bravo Arboleda Bravo Arbo Tevis Alfonso Vai via Vai via Alfonso Vai via Alfonso Bruciatelo Bruciatelo Alfonso Bruciatelo Alfonso Bravo Alfonso Fuoritempo Alfonso Eh Sandro Vabbè 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 Sandro Ci hai provato Aspettiamola così Ci hai provato Ok Cal Oh Billy Billy ruba Palla Billy ruba La palla No Però Fatti Spreca Oh Sandro Bravo Lindi Fatti Billy Bello Alfonso Alfonso Che cosa ha preso Che cosa ha preso Cosa gli ha preso Cosa gli ha preso Porca miseria Cosa gli ha preso Vabbè Dai Vabbè Come al solito Intorno al 60 Non lo faccio Non lo faccio All'inizio del secondo tempo Perché Giocatori In attimo Rifiatano Ecco Prima di farlo al 60 Che Sfrutto La freschezza I miei giocatori E la stacchezza Di quelli altrui Per questo Li faccio Al 60 I cambi Vai Vai Ok Nostra Ok Sì Perché gliel'avevo tirato addosso Vai Aide Bella Fatì Crossa la Fatì Bella Fatì Mint Milanov Per ora Match Winner Milanov Poi il cross Oh Billy Billy Niente Niente Vai vai Ok Sandro Manuel Billy Vai Billy Vai Billy Banda da rabbia Che comunque non ha segnato Ma il suo sporco lavoro Lo sta facendo Cross Alfonso I colpi di testa Non sono cosa sua Sono cosa di Alfonso Però vabbè Va bravo Sandro Billy ancora Fatì Niente Alfonso Alfonso Angolo giusto Eh infatti Ecco Allora Fatì Lo direi Così Vai Uh È lì No Fatì Hai autocolle loro No aspetta Voglio vederlo Questo Mi sembrava Gol di Alinni Mi sembrava Gol di Alinni Però aspetta Ah bello Aspetta Però Ha staccato bene Ha sbagliato la porta Però lo stacco È stato Meraviglioso Chi è Usman Diabatè Mica è quello No ditemi che È quello È quello Della Lazio Se ragazzi Era Non mi sbaglio Giocava O nella Lazio E l'hanno levato Subito E l'hanno Sostituito Su Che Momento Meraviglioso Il mondo Crolla Addosso Diabatè Crolla Il mondo Addosso Diabatè Ragazzi Comunque Dai Non distraiamoci Non distraiamoci Vai Vai Fatti Milanov E Vai Naif Il cross Vai Porca miseria Dai Infatti Niente Vabbè Settiamo i cambi Io ho aspettato Un po' troppo Allora Allora Sul 2 a 0 Direi Possiamo far rifiatare Davis E l'indy pure Ci mettiamo Al su Watt E Sandro Emanuele Lo mettiamo Al suo posto E Poi Terzo cambio Eventualmente Ce lo riserviamo Per un altro Momento No No Pallo Aia Aia Io Non volevo Non volevo Amaciato Ah Giallo Ok Comunque Sono stati Due cambi Sicuro Sono stati Due cambi A posto Così Fatti Abazza Abazza No No Che cosa Ah fuori gioco Vabbè Vabbè Pazienza Dai Allora meglio Che abbia sbagliato Comunque Già Comunque L'ho visto Muoversi bene Abazza Ok Abazza Niente E Allora E' un po' lento E' di realtà Non tantissimo Però Qualche modo Abazza Crossala Fatti Niente Assist Di Abazza Signori Abazza Ogni volta Che entra in campo Combina Sempre qualcosa Sia un gollo Sia un assist Qualcosa La fa sempre Guardate Abazza Di qua Cross Fatti di testa 3 a 0 Partita chiusa Direi Bene Comunque Il momento Momento L'autogol Di Diabatè Meraviglioso Anche perché Ripeto Io Chiedo Voi Che voi Che state seguendo Questa puntata Se Diabatè Io ricordo Un Diabatè Nel campionato italiano Forse Ah Non mi devo distrarre Ora Ok Comunque E' così Io ricordo Un Diabatè Nel campionato italiano Forse addirittura Nella Lazio E vi chiedo voi Se è quello Se è quello Se è quello Se è quello Diabatè E' quello lì Mentre loro Sono tutti in avanti Proprio lanciati in avanti Alla Alla Disperata Cioè Se è quello Diabatè La cosa E' 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 Un momento Di comicità Unica Ragazzi C'è Allora Alzo Watt Di qua Fatti Vai Fatti Vai Fatti Cross Niente Buono Arboleda Dai Arboleda Chiamato Diciamo che a partita In cui non ha fatto molto Però Quel poco che ha fatto Quel poco che è stato chiamato in causa Vabbè Fuori Ok Avanti di qua Naif Milanov Ola Con la cam Mai partita E' bella che è chiusa Vai Abazza Minte Sua vascia No Niente Bravo Già fu un albisci Milanov Poteva farmi finire questa azione Però vabbè dai 3 a 0 Gran Gran Bella partita Ragazzi Gran bella partita Mi siete piaciuti Mi siete piaciuti Davvero tanto Mi siete piaciuti Davvero tanto Bene così Ora Ora direi Dovrò fare sicuramente Gli allenamenti Perché Gli allenamenti quelli sono da fare Anche se poi devo vedere il discorso delle nazionali Perché c'era Un paese in cui Allora In 87 Intanto mi stanno adorando No aspetta Come giocatore infortunato Ah Gigandoli Vaffanculo Milanov Grazie mille Oh Milanov è contento che gli abbia un dato fiducia Comunque 19 anni Domani Beh chi lo sa Per il futuro potrebbe essere Un buon Buon elemento per il futuro Comunque Intanto Allora Direi Ok Fa interruzione Per favore Allora Intanto Oh Ok Vediamo l'osservatore che ci porta Allora Abu Budhani Allora Abu Budhani 70 Potenzialità 87 Vediamo Ferhat Budhani Potenzialità Questo no Poi Masmud Mammeri A 60 84 Età 16 Vediamo Vediamo Io A massimo Così Incaggere sto Ma scusa A 15 anni Ah ma Abu Budhani Incaggiamo Ok E anche Vabbè Mammeri Masmud Mammeri Ehm Masmud Mammeri Ce la pensiamo E Ora Vediamo Vediamo Salman Dalla rabbia solita Cosa ci porterà Allora Bashir Al Salah Che è un portiere Ma si Incaggia Dai Si Walid Al Mahmud 17 anni 60.000 Potenzialità Mi rifiuto Mi dispiace Poi Rashid Al Mawallad 15 anni 60.000 Potenzialità 62 A 84 Non saprei Vabbè 84 Per questo campionato Potrebbe essere buono Poi Qasim Kanazani Kanazani Perogli A 7 anni Vabbè Si ingaggia Dai Qualcuno Qualche Qualcuno Per la nostra Primavera L'abbiamo messo In cantiere Ora Direi Intanto Allora Facciamo una cosa Io andrei No No Non esco No Non esco No Allora Facciamo una cosa Questi però Facciamo così Come sono Perché 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 Serve Il controllo Palla Ecco Davide Serve La presa Serve E poi Abazza Che cresca Non è un male Avanti Ora Voglio vedere Un attimo Ufficio Voglio vedere Il viva I giocatori Che ho preso Voglio vedere Allora Questo Allora Kanazani Allora Kanazani Questa è Un 53 Di overhaul Vabbè G7 Già potrei Inghaggiare Però Andiamoci piano È Un Destro Attaccante Destro Vabbè Per essere Il giovanini Potrebbe Non potrebbero Nessere un problema Comunque Ora Poi Vediamo Un altro Attaccante Destro Quero 15 Anni 44 Doverhaul Mi pare Comunque Vabbè Poi vedremo Come cresce Questo Il portiere Questo portiere Sembra Potrebbe Non essere Malaccio Perché Comunque È Così Doverhaul 52 A 15 Anni Magari Cresce Un altro Po Vediamo Anche Questo Abubudani Tettino Destro Valuteremo Valuteremo Sono Per il futuro Sono tutti quanti Per il futuro Ora Avanziamo Andiamo a giocarci La partita Con La Lali Vediamo Come siamo minati Qua Qua Siamo minati Un po Un po Di ricambi Dobbiamo Fare Allora Billi Entra Inizia Magrabbi Qua Posso Infatti Direi Allora Fa iniziare A pazza Dall'inizio Facciamo Iniziare A pazza Dall'inizio Come destro Vediamo Come va Poi No Minanov Qua Torna 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 Il boven Ok Ok Certo Si lamentava Il futuro Che Dove Un gioco Un gioco Si lamentava Ma mi sentiva Che si lamentava Almuvallad Almawallad Terzino destro Almawallad Allora Io direi Ci mettiamo Ci siamo messi Un pochino Male Per terzino destro Testiamo Almawallad Ok Testiamo Almawallad Tanto Peggi di così L'altro terzino destro Che abbiamo Olayan Se lo guardiamo bene Non ha neanche Grande futuro Vabbè 23 anni Ok Però Insomma Terzino destro Mi sa Di backup Mi servirà Credo A meno che Non ce l'abbia Da qualche parte Me lo son Dimenticato No Si Mi sa Che mi servirà Un terzino destro Di backup Allora Poi Al Zubaidi Qua Al posto Di Quello Direi Che Per ora Possiamo Andare Così Possiamo Andare Così Per ora E quindi E quindi Vai E quindi Andiamo Dai Anche se Devo considerare Un attimo Di Ma Sing Sing Non mi dico Come era combinato Allora Accelerazione Velocità Scatto 82 Ah Vabbè Ok Va bene Va bene Poi Come Da far entrare Eventualmente Il secondo tempo Potrebbe Anche Starci Allora Ma Al Mutaidi Invece Come era Combina Su Al Mutaidi Che Che Non se lo Vole Allora Thing Fatemi vedere Accelerazione Ha meno Molto Meno Scatto Questo C'ha La velocità Scatto 89 L'accelerazione Però Ne ha Molto Meno No Vabbè Io vado Su Sing Al Mutaidi Vediamo Vediamo Al Mutaidi Poi Si valuterà Eventualmente Giocherà Altre Partite Comunque Sono deciso Finché Sono indeciso Adesso Vabbè Ok Andiamo Andiamo avanti Così Andiamo avanti Così Andiamo avanti Così Ci prepariamo Ci prepariamo La prossima Partizione No No Quale uscire Dalla Carrera Quale uscire Allora Andiamo Contro Alali Alali Se non mi sbaglio E' uno dei top club Credo che l'anno scorso sia arrivato Terzo Secondo Terzo Insomma Giù di lì Comunque Avanti Dobbiamo vincere Avanti ragazzi Ok Ok ragazzi Dai Questa E' una partita Importante Contro Contro Un avversario Davvero Importante Avanti Dobbiamo 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 Crederci Chiamo Al King Abdullah Sport City Avanti Dai Ok Sono un po' Teso Questa partita Comunque Dai Vediamo un po' Se lo riusciamo a fare Ok Allora Vai Al Muvallad All'esordio Vediamo Come andrà Bellissimo Appazza 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 No Boven Goal Del Boven Ma grandissima azione Grandissimo inserimento Di Abazza Signori Comunque Anche grande Gol Del Boven Gran Bel Gol Grande Il Boven Grande Il Boven Guardate Tiro Parata I battute E poi Il Boven Di là Olè Bella poi Tra l'altro Bella di precisione Io non l'ho cliccato Per farla a giro Sta Sta parabola L'ha fatta Lui di suo Sto Sto tiro Comunque 1 a 0 Alla grandissima Iniziamo benissimo Ora Ragazzi mi raccomando Non Ci deconcentriamo Non deconcentriamoci Perché Attenzione Vai Non deconcentriamoci Che qua serve La vittoria Serve Serve tantissimo Manda via Sta palla Bravo No Bene male Alma Wallad Bravissimo E l'indiri Partiamo Abazza 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 E la per Davis Davis Vai Davis Vai Davis Bruciateli Davis Bruciateli Davis Cross Potevi farlo Un po' meglio Ah no L'hanno deviata Ok Ok impareva Il sano Cadavis faceva I su cross Sandos No Avanti No 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 Non mi piace Brutta situazione Bruttissima Brutta Brutta Bravo Zubai di No dai Zubai Zumba Zumba Io vorrei fare Appena Appenzi Come inizio Il passaggio E non lo fai E dai Vai Oh Già full Beh Bravo Zubaidi Bravo Zuba Nostra Eh eh Pirla Allora Davis bravo Davis Poi Davis Davis sulla fascia Davis Cambio pa Bene Cross Abazza 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 Tu sei a zero Abazza Ragazzi no questo è impressionante come gioca o fa un gol o fa un assist E' impressionante Abazza Abazza grandissimo Grandissimo Abazza Grandissimo ragazzi guardate Davis Cross Bello bellissimo ovviamente il taglio di Abazza Grandissimo Vabbè Ok Va benissimo 2 a 0 Abbiamo Ragazzi abbiamo scoperto Abbiamo scoperto qua un Un capione per il futuro Ok va E' lindi no No Ok bravo Arboleda Bravo Sandro Dalla da Bazza Cross Bello questo cross tra l'altro Bene Ismail dai Davis Davis Vai Davis Vai Alfonso Bravo Alfonso Cross di Alfonso No ancora Abazza ci stava andando di testa ragazzi Ancora Abazza se la prendeva Era Era Delirio Delirio no 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 grande grande Arboleda grandissimo Arboleda ragazzi qua ci sono tanti tanti piccoli eroi che stanno venendo fuori eh No Fabavian Quello Vai Vai Iv衛 Fallo Eh Eh Dai E dai Batte Sandro Manuel Ok Va bene E allora vai troppo vabbè ho sbagliato qua ho sbagliato io e l'indy prende a baza vai a baza di forza baza di forza baza sarebbe rigore sarebbe rigore questo sarebbe rigore ma lasciamo perdere ok vai baza ancora prova andatene di forza ma niente spazzate in palata ribatte direttamente a baza ok cross bello peccato va bene dai no 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 vabbè sto soma sto soma qua guarda che cazzo di tiro ha tirato fuori omar al soma ok calma siamo sempre in vantaggio non è successo niente valmu vallad valmu vallad bravissimo sandro cross due anni fa però niente e i bersi del tiro dove dove bravo e lindi riproviamoci sandro manuello ok bene vedi peccato 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 forse era meglio del tiravo ma vabbè va bene dai va bene 2 a 1 direi i cambi come al solito farli intorno al sessantesimo non è prudente fare rifiata le giocatori adesso perché insomma ancora la partita è un po in mirico quindi farà lindi la pazza vai ismail ismail duuuu ismail ok beh bene zubaidi e indi con calma ok ismail e dagliela ismail però calma no ma come camera difesa non c'è mai eppure vabbè calma vai che è tua vai gia fun niente ok ah no era il muvallad era il muvallad ok giusto sandro e lindi ismail ho cliccato per dare un'altra parte ma va bene uguale boven e vabbè ci ho provato comunque vai sandro di cross la davis non ci credo non ci credo vabbè da fa niente dai calma calma vediamo beffe però eh no oh che l'ho mandata brutta a vuoto bravo arboleda e quello ormai è cominciato a cannoneggiare da fuori vai lei che è vostra vai che bo no raga è lindi non mi direi autogol di e lindi no ragazzi ma stiamo scherzando vabbè no e lindi no io però il momento il momento di abatea e lindi non glielo faccio passare dai oh capita comunque non mi gioca un gran bene a centrocampo dai no bravo no 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 fuori ok cambi 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 Abazza è tipo morto eh quasi quasi allora billy entra eh al suvatta al posto di sandro manuel fra indeciso fra fatti e thing al posto di Abazza ci pensiamo dopo fra un po' ci pensiamo fra un po' giochiamo vediamo un po' la situazione ok avanti Abazza bene zubaidi zuba zuba bene zubaidi indietro cross niente da fare vabbè allora sì però non può battere il bovin scusate eh cambia tiratore uno che batte meglio eeeeh vabbè niente come non detto dai corre il suo primo palo cross e lindi vabbè dai va a me dai vai che tu vai che tu vai che tu va no 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 bravo arboleda bene arboleda dai va bene arboleda manda via manda via manda via manda via ridi bravissimo ora oh 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 poi billy 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 dai può essere il proprio può essere il risolutore puoi essere il risolutore billy bella billy di forno fallo fallo e questo è rosso che gli era dato da dietro avanti dai come giallo come giallo come giallo non ci credo vabbè nooo nooo e dai nooo che cosa ne devo sostituire Abadza fatti fatti a posto di Abadza Abadza non ne ha più riprendi un solo gol di vantaggio è un po' troppo poco da difendere considerando nooo incredibile ragazzi incredibili vabbè dai dai vai che bravo Zubaidi nooo almovallad però pure tu dai nooo dai lindi prendila che ci aspetta il calcio d'acqua niente ok vai vanna via lindi ok ora fatti riparti fatti che tu riparti vai fatti vai fatti vai fatti vai fatti vai fatti fallo dai che tu muovallad vai alzo vatt alzo vatt alzo vatt dai no dai raga non è possibile dai che tu dai che tu non riusciamo a reagire più per qualche motivo non riusciamo a reagire più forse la stanchezza non lo so davis sulla fascia andiamo sulla fascia vai tu vai tira la davis dai cross niente dai di tess su vatt davis e cross ah rigore va bene raga stiamo scherzando stiamo scherzando dai nooo dai 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 zubaidi ok boven boven bene vai vai passa fatti fatti ok che attacco totale magari viene ok ok però primo palo cross cross lindi vabbè credibile non ci credo ragazzi assurdo vabbè vai e lindi al su vatt dj fallo e vabbè e vabbè e vabbè e vabbè boh vedi che partita siamo andati a perdere vedi che partita siamo andati a perdere ragazzi e vabbè e vabbè pazienza pazienza signori pazienza signori eh intanto quello possiamo fare ora come ora eh intanto andiamo avanti avanziamo alla alla prossima partita avanziamo alla prossima partita mentre no conferenza è sempre io non la voglio fa conferenza è sempre che volete da me Aldo Sadi ah no questo è aggiornamento pensiero all'osservatore ah si è sempre quello la che Masbud Mammeri è un indeciso ma si da ingaggia prendiamolo via per la prossima partita sono un ottimo momento giocando ben ultimamente per questo vedete vuoi scendere i campi all'inizio eh va bene ok va bene prossima partita sarai titolare ok eh direi detto questo ora possiamo eh salutarci qui e darci appuntamento alla eh prossima puntata del calcio kebab e fantasia vi ci salutiamo vedendo un'attima situazione del campionato siamo settimi in questo momento però cioè vedete la classifica è molto corta è molto corta cioè siamo settimi ma dalla prima posizione abbiamo solo siamo sotto solo di tre punti quindi è tutto in gioco siamo tutti lì è tutto in gioco prima vedete un attimo eh vedete un attimo il calendario cosa ci mettere avanti le prossime partite abbiamo l'alraed prossima partita prossima partita prossima puntata avremo penso l'alraed l'alraed e poi vabbè le amichevole e l'alettifac ok c'è una lunga sosta per le nazionali a quanto vedo comunque ok l'alraed e l'alettifac saranno queste le nostre le nostre prossime partite quindi no no non devo chiudere adesso no no quindi signori detto questo noi possiamo salutarci qua darci appuntamento alla prossima puntata quindi semplicemente saluto tutti quanti voi alla prossima